Teorustici, attenti, non fiatate. Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate che io sono quel gran medico, dottore e enciclopedico chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara. Cambiamo l'olio. Allora dunque, per cambiare l'olio, anzi per controllare se c'è da cambiare l'olio, numero uno, svuotare tutto il piano, numero due, prendere le cinture e metterle qua dentro, numero tre, abbottonare la camicia perché lui si è sbottonato, ok, numero quattro, numero cinque conviene prenderlo e infilarlo qua dietro, così almeno non si blocca, numero sei, aprire, ecco qua il chiodo che qua è andato via, capito? Qui c'è, ma qui come si vede, no? Una waz montata alla cazza. Comunque, eravamo il numero sei, allora il numero sette, numero sette, inserimento, numero quattro, carta igienica, numero cinque, invece c'è il numero otto, no? Prendere la cosa dell'olio e vedere dove è andato. Sono un paio di giorni, due o tre giorni che non la uso, mi sembra che l'olio sia pulito ed è anche regolare, no? Mi sembra che ci siamo. Ma magari ne manca un po', eh? Ora che l'ho riposato, perché l'ho controllato poco fa, però dopo l'ho rimesso dentro, riproviamo e rimettiamo dentro, perché mi sa che manca dell'olio. Quando mi rimane la spia accesa, non che si accende la spia, ma che mi rimane accesa, ma no, io direi che ci siamo, it's ok, it's ok, olio pulito va bene, olio abbastanza pulito va ancora bene. Quindi rinseriamo la nostra sonda. La comodità di avere il motore qua è proprio, non devi avere la camicia bianca. È importante non mettere la camicia bianca per cambiare l'olio, perché, capito? Ribatti qua, ti sporchi subito, insomma, la camicia bianca non è una camicia che va bene con la Wats. Qua abbiamo tirato questi qua, perché se li lasci lì, dopo si incastra. No, bisogna rimetterli ancora dentro, perché prima dobbiamo mettere questo. Questo citofono qua, questo pacco regalo. Inserito, tutto deve essere bello, nice and regular. Headset, headset, poi la manina, il topo, il book, la maschera, le maschere, questo qua, che è per diventare invisibile. Adesso ci sono. Adesso non ci sono più. Eccomi qua. Vabbè, vabbè, va. Ok. Abbiamo cambiato l'olio. Questo non ci serve e quindi lo vado a buttare. Un'olio. Grazie.